Buonasera a tutti amici di AC Milan Inside, nuovo appuntamento con la rubrica AmarCord. Oggi analizzeremo una partita che è andata in scena 30 anni fa, il 18 ottobre del 92 a San Siro, nel campionato 92-93, a sfidarsi il Milan di Fabio Capello contro la Lazio. Una partita appunto tra i campioni d'Italia dei rossoneri che vinsero nella stessa giornata di campionato per 5-3 contro la Lazio. Milan che passa in vantaggio al 13esimo con Rud Gullit, poi raddoppia al 14esimo con Papen. Al 21esimo accorcia le distanze la formazione bianco-celeste con Winter, intanto poi giocherà anche nell'Inter, quindi nel club neazzurro. Poi 3-1 di Van Basten, accorcia l'ex Milan Fuser e poi il 4-2 sempre di Van Basten, 4-3 fermato da Signori e ha chiuso le marcature Marco Simone. Allora, intanto appunto per quanto riguarda il primo gol, cross i mezzo di Van Basten, smanaggia il portiere della Lazio, al limite dell'area c'è il Tulipano Nero Gullit che tira e batte appunto il portiere, poi pallonetto a superare il portiere e tap-in facile di Papen per il 2-0. Papen con la maglia numero 11. Poi il 2-1, appunto colpo di testa ravvicinato dell'olandese Winter. Poi lancio in avanti per Van Basten che viene atterrato, sul dischetto si presenta sempre il cigno di Utrecht che non sbaglia. Poi altro fallo, una partita anche dove ci sono stati omogeni in campo, è stato interrotto per questo. Poi, no, Fuser, intanto numero 7 con un tiro dalla distanza accorciato le distanze. E poi, palla verso Van Basten che viene messo nuovamente giù, questa volta calcio di rigore di nuovo. E che non sbaglia. Poi Signori, anche qui lasciato tutto solo, parte, va in contro al portiere, se passano Rossi. E in diagonale batte il numero 1 rosso-nero. E poi, la palla verso Marco Simon. Anzi, Marco Simon si è al centro che non sbaglia. Questo è un po' il racconto del 5-3 del 18 ottobre 1992. Un bacio e al prossimo appuntamento con la rubrica Amarco Art.